Schena Assicurazioni Generali Garibaldi Comprensione fra i popoli del mondo, un attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale, una libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico e ancora la vocazione al servire attraverso opere e solerzia del lavoro. Questi alcuni dei principi del Lions Club, associazione il nome del quale è Acronimo di Libertà, Ingegno e Sicurezza della Nostra Nazione, una entità nata il 7 giugno del 1917 a Chicago per opera del dirigente Melvin Jones e presente in Valtellina oramai dalla metà dello scorso secolo. Norberto Gualteroni, presidente del Lions Club Masegra. Il 7 giugno prossimo ricorrono i 100 anni dalla fondazione di Lions Club International che ricordo è la più grande associazione umanitaria su base volontaristica, quindi non governativa, al mondo. I Lions in Valtellina sono nati nel 1956, io rappresento quest'anno come presidente il Lions Club Sondrio Masegra, ma in Valtellina abbiamo altri 7 club che sono Colico, Chiavenna, Morbegno, Tirano, Sondrio Ost e Chiavenna, oltre a due club satelliti che sono Livigno e Satellite Montagne Grumello che è un club femminile. Bene, questa forza provinciale è particolarmente impegnata a raggiungere anche lei sul proprio territorio quelli che sono stati dati gli obiettivi ideali per celebrare questi 100 anni, cioè impegnarsi in particolare al servizio in quattro aree principali che sono la lotta alla cecità, la lotta alla fame sul territorio, quindi alla povertà, la salvaguardia dell'ambiente e in particolare anche il supporto ai giovani. Sabato sera, al Teatro Sociale di Sondrio e a partire dalle 20.45, il Centenario dei Lions verrà celebrato con un concerto organizzato dai club della provincia valtelinese in collaborazione con il Lions Club Flavia Gens di Rieti, un atto di alta solidarietà rivolto ai paesi colpiti dal sisma nell'Italia centrale. Sabato sera noi abbiamo organizzato un concerto che abbiamo denominato concerto del Centenario, ma con uno scopo benefico, sempre in questo spirito di servizio che ci caratterizza. E lo scopo è appunto quello di dare così un contributo a questo grande dramma che è stato il terremoto nel centro Italia. Ricordo che i Lions nel loro compresso stanno raccogliendo fondi a livello nazionale, sia stato raccolto un milione di euro e poi sarà devoluto naturalmente in un progetto più specifico. Però a Sondrio, ricordo che il Lions Club Sondrio Mosegra, è gemellato con il Lions Club Flavia Gens di Rieti. E su proposta loro, ovviamente, è stato indicato, in particolare anche promosso dal sindaco di Amatrice, di salvaguardare ormai l'unico simbolo che rimane loro, che è questo santuario della Madonna della Filetta, appena fuori Amatrice, che è la patrona di Amatrice. Siete straordinari, la forza in questo momento la trovo nella vostra solidarietà. Quando persone di altre aree geografiche si stringono intorno alla comunità, al di là di quello che succederà, è quella linfa, è quella forza che ancora oggi, diciamo, mi sorreggere. Sul palco del sociale, ad allietare l'intero evento, la Gerundia Jazz Orchestra. Che è un'orchestra di jazz melodico e classico, che viene dall'Accademia Musicale Gerundia, appunto, di Lodi. Questa accoppiata è stata facilitata dal fatto che il presidente dell'Accademia è un Lions, ed è il presidente della Lions Club Lodi Europea, e quindi, naturalmente, l'orchestra si è prestata ben volentieri a partecipare, in spirito lionistico, all'evento, appunto, di sabato sera.